C'è capo Obiettivo Salute, terza stagione, benvenuti telespettatrici, benvenuti telespettatori di Rossini TV, dal salotto di Fisioradi Medical Center. Nostro graditissimo ospite di questa sera è il dottor Luca Brandi. Buonasera dottore. Buonasera, buonasera a tutti. Il dottor Luca Brandi, oculista, specialista in oftalmologia, ospite per la seconda volta della nostra trasmissione, la vista, l'occhio, questo senso, questo organo meraviglioso dottore che ci permette di vedere. È così delicato a volte, è un po' trascurato dai pazienti che si accorgono solo del bisogno di un check-up, eccetera, quando gli cala la vista. Invece spesso ci sono delle malattie che a volte sono asintomatiche e che se prese in tempo, insomma, sarebbe... Si potrebbero risolvere molto meglio. Molto meglio senza poi creare tanti problemi, appunto perché la vista la diamo per scontata. Proviamo solamente a immaginare chi non ce l'ha, quanto invece faccia un'esistenza totalmente diversa rispetto a chi ce l'ha, per renderci conto di, in realtà, quanto sia fondamentale poter vedere bene. Dottore, credo che lei abbia fatto riferimento a una patologia della quale vogliamo parlare oggi, che vorremmo provare ad approfondire, il glaucoma. Sì, il glaucoma sicuramente, proprio rilacciandomi al discorso delle malattie asintomatiche, è proprio patognomonica come malattia, perché è una malattia degli occhi che non dà dei sintomi se non negli stadi molto avanzati. Quindi un paziente vede bene, fa la sua vita normalmente, non ha dolore, non ha fastidi e intanto sotto sotto invece pian piano questa malattia sta lavorando. Il glaucoma è una malattia neurodegenerativa, cosiddetta perché colpisce l'occhio, ma colpisce in particolare il nervo ottico. Il nervo ottico è il nervo che collega l'occhio e trasferisce le informazioni visive al cervello e può in alcuni casi, soprattutto in concomitanza con dei valori di pressione oculare elevata, presentare un progressivo deterioramento. Deterioramento che comporta una perdita delle fibre del nervo, cioè dei cavi che compongono il nervo e questo a sua volta comporta un progressivo restringimento del campo visivo, cioè il campo visivo è quella porzione di spazio che noi vediamo quando apriamo gli occhi. Nel glaucoma pian piano lentamente il campo visivo si stringe e lo chiamano non a caso il ladro silenzioso della vista proprio perché, come dicevo, uno non se ne accorge perché la cosa è molto lenta e progressiva. Certo, immaginatevi quindi appunto questo campo visivo che noi abbiamo sempre sotto controllo, ci sembra di averlo, però a un certo punto senza che ce ne rendiamo conto potrebbe stringersi. Ha parlato di una questione importante, la pressione, la pressione intraoculare. Di cosa si tratta esattamente? Perché è molto facile fare confusione con altri tipi magari di pressione a livello organico. La pressione oculare è un qualcosa che non ha a che vedere con la pressione del sangue per l'appunto, è una pressione intrinseca all'occhio, cioè del liquido che è contenuto all'interno dell'occhio. C'è un liquido che si chiama un moracchio che viene continuamente prodotto ed eliminato dall'occhio. Quando ci sono delle difficoltà come delle ostruzioni che si creano per vari motivi nel deflusso insomma di questo liquido, aumenta il gradiente pressore, cioè aumenta la pressione che c'è all'interno dell'occhio. Quando aumenta un po', magari questo non succede niente, ma quando la cosa peggiora, pian piano incomincia a fare un danno che dicevamo è un danno irreversibile. Glaucoma è la principale causa di cicità irreversibile nel mondo, perché ad esempio la catarata che è la causa più frequente di cicità, quella lì una volta che uno fa un intervento la può, togliendo la catarata, uno torna a vedere dieci decimi, torna a vedere benissimo, invece il glaucoma purtroppo quando ha fatto dei danni non si può più fare niente. Di qui l'importanza di una diagnosi precoce che consiste essenzialmente nel fare una visita oculistica nell'andare a vedere tutta una serie di parametri, in particolar modo anche se non solo la pressione dell'occhio. Certo, quindi detto proprio in termini molto semplici, anche se si vede bene, anche se si ha l'impressione di avere dieci decimi, anche se non abbiamo particolari segnali che qualcosa possano andare bene a livello della vista, fare una visita e prevenire l'eventuale insorgere del glaucoma è fondamentale. Quindi qui siamo veramente nel campo della massima applicazione della prevenzione, dottore. Esatto, esatto perché l'oculista facendo la visita nota, oltre alla pressione, nota eventuali danni del nervo, quindi il nervo, quello che vediamo al microscopio, cioè la papilla, la testa del nervo ottico, si mostra progressivamente escavata proprio perché perde sostanza, perde le fibre, i cavi che lo costituiscono, può l'oculista indicare tutta una serie di esami che vanno a vedere la parte strutturale e la parte funzionale del nervo, cioè con gli esami del campo visivo andiamo a vedere come funziona il nervo e se ci sono delle zone del campo visivo che sono danneggiate. Con altri esami, ad esempio l'OCT, che è una specie di TAC della testa del nervo ottico, l'OCT va proprio a scannerizzare la testa del nervo ottico e va a misurare lo spessore delle fibre, cioè dei cavi che compongono il nervo e li va praticamente a paragonare ad un database normativo per vedere se effettivamente il nervo è normale oppure incomincia a esserci un danno e di solito il danno strutturale in qualche modo corrisponde al danno funzionale nel campo visivo e corrisponde anche nella vita di tutti i giorni ad una difficoltà perché chi ha un difetto del campo visivo nella parte bassa inciampa facilmente perché va a sbattere contro le cose, le vede in ritardo e via dicendo. Solo che come dicevamo uno non se ne accorge, come noi non ci accorgiamo di vedere la mano che si muove qui perché il campo visivo qui non ci arriva, anche un soggetto glaucomatoso non per lui è normale non vedere la mano quasi davanti all'occhio. Ci sono persone che guidano e guidano tranquillamente la macchina e hanno fatto l'esame della patente, magari il rinnovo della patente a pieni voti e in realtà hanno un problema molto grave di campo visivo e si trovano una bicicletta che la vedono quando è sul cofano della macchina. Pensate quindi quali gravissime conseguenze. Dottore ma questa opera di prevenzione andrebbe fatta con continuità, non è che la faccio una volta, la rifaccio dopo 15 anni o dopo 20, andrebbe fatta con più continuità nel tempo? Soprattutto nei pazienti che hanno una familiarità perché il glaucoma pur non essendo contagioso è una malattia che spesso si ritrova all'interno della stessa famiglia perché ce l'hanno magari i genitori, i zii, capita spesso che la familiarità è spiccata e quindi questi soggetti qui a maggior ragione hanno bisogno di fare dei controlli più frequenti, più frequenti significa anche una volta ogni 12, 18 mesi eccetera, anche da giovani, anche 25, 30 anni perché possono già manifestare alcuni segni che non sono il glaucoma però alcuni segni possono far prevedere l'insorgenza di lì a qualche anno appunto della malattia e questo necessita appunto di controlli più frequenti, più sterrati. Chi non ha mai avuto problemi, chi diciamo anche in famiglia non ha mai avuto casi di glaucoma diciamo che per almeno ogni 2-3 anni una visita oculistica dovrebbe fare. Un aspetto che ha già toccato ha detto che è irreversibile e quindi è una malattia che comunque nonostante le evoluzioni della tecnica, della scienza e forse anche della farmacologia comunque fa ancora paura. Esatto, diciamo che sostanzialmente con i colliri nella maggior parte dei casi noi riusciamo a tenere sotto controllo la malattia anche tutta la vita e permettere sostanzialmente che non dia una limitazione funzionale quindi uno riesce per tutta la vita a continuare a vivere tranquillamente, a vedere bene e a fare tutte le sue cose. Quando non arrivano i colliri a volte è necessario fare degli interventi. Gli interventi che a seconda della gradità della malattia possono essere più o meno invasivi o più o meno conservativi però servono nella migliore delle ipotesi a bloccare la malattia cioè sono degli interventi che servono per tenere bassa la pressione dell'occhio al posto dei colliri o in aggiunta ai colliri e non permettono di ripristinare il campo visivo che si è perso quindi quando uno ha un grosso danno purtroppo rimane questo danno. Dottore, la sentiamo molto appassionata sulla questione che riguarda la vista perché immaginiamo che tutte le discipline mediche, lo sappiamo abbiamo incontrato anche tanti suoi colleghi che nella nostra vita quotidiana ci capitano, prendono molto a cuore la loro specializzazione perché ovviamente fa parte della loro vita. Nel caso di un oculista che proprio studia e vive su il senso forse macroscopicamente importante di tutti noi questo è ancora più acuito ed è una passione, lo dicevamo prima, che nasce addirittura da ragazzino perché lei a un certo punto ha cominciato a giocare con i telescopi, con le lenti si è appassionato non solo all'oculistica, all'oftammologia ma anche proprio all'astronomia col telescopio come tutti noi ragazzini facciamo da giovani. Certo, diciamo che quando non pensavo che sarei arrivato fino a qua insomma sostanzialmente da una passione per la fotografia, per l'astronomia quindi per l'ottica poi comunque una passione per la scienza che mi ha portato a fare il liceo scientifico una facoltà universitaria scientifica alla fine mi ha portato a fare medicina e da medicina si sono sommate le cose, i casi della vita e mi ha portato a seguire poi la mia passione quindi l'oculistica che comunque ha a che vedere con la luce, con gli occhi, con le lenti sostanzialmente. E vedo che ce l'ha le lenti anche lei, come anche io siamo portatori di lenti e quindi sappiamo cosa vuol dire poter correggere questi difetti. Astronomia è una pratica molto appassionante perché ci permette di vedere davvero un mondo molto più grande di quello che viviamo tutti i giorni. No, sicuramente è affascinante, è affascinante, è una parte che purtroppo stiamo un po' perdendo per certi aspetti perché nella mente di tutti i giorni un po' il tempo, un po' anche il fatto che nelle città non si vedono più le stelle, purtroppo diventa un po' difficile anche seguire questa passione. E per un appassionato di astronomia poi chiudiamo con una domanda un po' curiosa che magari può far sorridere ma io sono uno che non esclude assolutamente altre forme di vita nell'universo. È ristretto dire che ci siamo solo noi? Sicuramente, è molto ristretto. È molto ristretto, quindi senza andare alla proprio alla casistica degli UFO che forse sono molto americani, molto così inventati chissà in quale situazione, però certamente l'idea, l'ipotesi che possano esserci forme alternative di vita nell'universo che è così grande credo che sia plausibile. Diciamo che non crederci sarebbe una visione miope, perché veramente lo spazio è sconfinato. Ottima conclusione, dottore. Grazie davvero per questa chiacchierata. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguiti. Appuntamento a lunedì prossimo con Checkup Obiettivo Salute. Buona serata a tutti voi. Grazie a tutti.